...e quindi sarà un'operazione condivisa con tutti i sindaci del territorio, ma in tema di finanziamento, come avete giustamente sottolineato, la nostra provincia è un accenerento, abbiamo sempre ricevuto delle quote capitali inferiori alla media regionale e se noi negli ultimi vent'anni avessimo avuto la provincia di Cune, avessi avuto il finanziamento medio regionale probabilmente avremmo già le risorse, se fanno due gli ospedali, però ci troveremo e sarà un mio impegno trovare le risorse perché una delle priorità sicuramente più impellenti della provincia è la costruzione del nuovo federale di Cuneo.